Tra i tanti temi dibattuti durante la campagna elettorale a Montevarchi in vista delle prossime elezioni amministrative del 15 e 16 maggio c'è senza dubbio l'ambiente, una riqualificazione infatti dell'ambiente circostante alla città di Montevarchi e all'ordine del giorno per tutti e sei candidati. Sentiamo la posizione di Unione Toscana per il candidato a sindaco Paolo Rigacci, ha parlato al sostenitore Mauro Donati. Migliorare la qualità di vita, noi per fortuna a livello Valdarno abbiamo già un sistema di vita, questo lo devo riconoscere, di un certo pregio, è ottimale. Migliorare, migliorare lo miglioriamo, va migliorato insieme, deve essere il cittadino che deve contribuire a migliorare. Perché torno a ripetere un'altra cosa importantissima nel nostro programma di Unione Toscana con Paolo Rigacci. Le decisioni, devo prenderle i cittadini, non devono prenderle i politici, non devono imporre dall'altro determinate cose. Bisogna sentire e andare in mezzo ai cittadini, alle persone e avere un'idea ben precisa di quello che richiedono. Perché non possiamo assolutamente andare oltre quelle che sono le decisioni del popolo. Per cui noi siamo aperti, saremo aperti, saremo il portavoce del cittadino semplice perché riesca a farci avere quelle che sono i loro desideri, le loro idee per quanto riguarda l'amministrazione che poi deve provvedere a realizzarle. Il cittadino deve dire quelle che sono le varie problematiche, quelle che sono le idee, quello che vuole fare. Tutto là.